dai cazzo allora siamo dal mio maestro della riva a ieri l'allenamento e oggi sono passato a questo che ha fatto un'altra cosa qui essere maestro della riva dai cazzo qui allenamento palestra della riva copa gabbana tutti amici tutti amici è il numero uno del jiu jitsu porca puttana dai cazzo e